Non si placano le polemiche sullo sviluppo del Gran Sasso. Dopo l'accantonamento dell'ipotesi del referendum per rivedere i confini del parco, annunciato dallo stesso comitato promotore, a scendere in campo è il capogruppo di Forza Italia Guido Liris, che si scaglia contro l'amministrazione di centrosinistra guidata da Cialente. Rea, secondo il consigliere, di non aver risposto alle istanze del comitato referendario. Il centrosinistra risponde con il silenzio all'appello del comitato referendario Steve Gran Sasso, afferma Liris. Qualche giorno fa il comitato ha chiesto alla politica di schierarsi e di dire esplicitamente il proprio pensiero sui quesiti referendari, di uscire dalla posizione equivoca, di essere concilianti sia nei confronti del comitato stesso, sia nei confronti delle sigle ambientaliste. Il risponso è stato un assordante silenzio, un silenzio che la dice lunga sul conflitto ideologico, politico ed amministrativo che imbarazza la maggioranza in consiglio comunale. Nelle scorse settimane, lo stesso Liris aveva avanzato una richiesta di consiglio comunale straordinario, proprio per discutere della vicenda, per ascoltare le ragioni degli ambientalisti e del comitato referendario, ma anche in questo caso la richiesta è caduta nel vuoto. Sarebbe stata un'occasione, spiega Liris, per consentire alla politica aquilana di prendere una posizione chiara di fronte alla città. Nonostante lo abbia fatto più volte, conclude Liris, colgo l'occasione per ribadire la posizione favorevole della mia persona e del mio gruppo consigliare rispetto all'indizione del referendum, sottolineando come lo sviluppo economico e turistico della nostra montagna non possa essere possibile con l'attuale perimetrazione di parco, SIC e ZAPS. SIC e ZAPS